Riguardo alla mafia, signori buonasera ci troviamo in piazza Marconi, sono le ore 21, abbiamo con noi il nostro conosciutissimo Salvatore, noi lo chiamiamo di Lombardia di cognome scavaglieri, qua abbiamo attrezzatura che Salvatore usa per contrastare la cosiddetta mafia e lotta contro i politici. Ecco questo abbiamo il personaggio, facciamo un primo piano, Salvatore conosciutissimo, che ora lui è concentratissimo e caricatissimo e farà un discorso su quello che lui concepisce, farà un tema su Catena Nuova diciamo, riassunto. Ora facciamo un primo piano a Salvatore, Salvatore, il problema di Catena Nuova è un problema di lavoro e di bioetica. Il contributo che io do a Catena Nuova è il lavoro con questi attrezzi, io ho sradicato un olivo secolare per rifare il limite. Usando, maneggiando pietre, mi manca la leva di Archimede qui, maneggiando pietre di 200 kg e sradicando un albero con un tronco di olivo di 3-4 metri di circonferenza. Questo si chiama volontà, intelligenza, pazienza, voglia di fare, cosa che i nostri politici non fanno perché hanno la cultura della manciatoia. Io voglio aiutare Catena Nuova diffondendo la cultura del lavoro con pochi attrezzi. Bravo!